Dunque, anzitutto, questa realtà della Godot contiene un atteggiamento, diciamo che è insolito, che è purtroppo un po' in disuso, che è quello di essere appassionanti e appassionati. Questi ragazzi sono veramente motivatissimi, hanno una passione fortissima. In questo spettacolo la Pirandelliana, oltre a questa passione, evidenzia anche un'altra qualità che è fondamentale. C'è una disciplina. Basta vedere dietro le quinte quello che succede. C'è un rigore che nelle compagnie di professionisti supernavigati non c'è uno che non cammina in punta di piedi. Cioè si vede che hanno una scuola importante e appunto Vittorio e Federica sono i loro padri e madri, i loro genitori, in tutti i sensi, perché poi è anche una scuola di vita. Il risultato è che all'interno di questa compagine probabilmente si può annidare anche qualche elemento geniale, chissà. Io me lo auguro e lo auguro a questa realtà che è veramente unica. L'augurio per un futuro, per un pronostico abbastanza prevedibile. Sicuramente qualcuno di loro, qualcuno è già importante, avrà dei risultati eccellenti.